In questo momento ci sono tre persone, come potete vedere, che mi stanno ascoltando. Tutto questo è live, io sono Michele Marallino, sono un cantautore. Vi faccio vedere anche gli ultimi 28 giorni. Guardate il grafico, come cresce, e questa crescita non sembra proprio volersi fermare. Se volete capire come ho fatto ad ottenere questi risultati, come faccio ogni giorno ad avere persone, sempre ad ascoltare le mie canzoni, io ho preparato una lezione di 30 minuti dove vi spiego le playlist algoritmiche e il loro enorme potenziale, e come possono promuovervi gratuitamente su Spotify. Qui stiamo parlando di listeners, ascoltatori unici, non stiamo parlando di stream che possono essere gonfiati, bot. Qui sono ascoltatori unici organici. Cliccate nel link che trovate qui sotto e guardate la lezione gratuita di 30 minuti dove vi spiego tutto. Ci vediamo dall'altra parte.